Chi è scritto? Chi è scritto quello? Chi è scritto quello? È riuscita la mamà? Eh sì! Eh? L'ho fatto. Qui o no? Qui, qui, qui. Dai, ci proviamo. Ci proviamo col tutto. Non mi chiami. Non mi chiami. Non mi chiami. Ciao. Ciao. Sono da oggi. Oh, signore. Esaponete oggi, ok? Ok. Ciao.